salve ragazze benvenute e bentrovate siete qui nel mio nuovo interattivo sto sperimentando una nuova diciamo postazione delle carte fatemi sapere se vi piace e allora andiamo a fare questo interattivo chi vorrebbe parlarti quindi descrizione di chi vorrebbe parlarvi e poi andremo ad analizzare cosa vorrebbe dirti quindi chi vorrebbe parlarti e cosa vorrebbe dirti andremo ad analizzare pensieri sentimenti azioni insomma il destino un po che cosa vi dice con questa persona allora ragazze qui sono questo interattivo a più varianti quindi dovete scegliere il mazzo di carte abbiamo la prima variante con questo mazzo di carte che sono i mini tarocchi della new vision poi abbiamo quest'altro mazzo di carte che sono i tarocchi universali sempre mini poi con le carte oracolari andremo poi a vedere un po il destino di questa situazione poi ho anche messo qui per una descrizione di chi vorrebbe parlarvi per avere così qualche dettaglio le mie carte che ho da poco tempo fatto e quindi ti voglio utilizzare qua c'è stato un incidente come si suol dire in diretta allora fatemi riposizionare tutto non mi va di di cancellare il video tanto insomma voi sapete che la come dire la vericidicità delle cose è sempre quella migliore quindi qua devo soltanto creare una sorta di quindi devo mettere qualcosa di pesante perché se no qua mi si può capovolgere allora ragazze scusate l'inconveniente come vi stavo dicendo con queste carte che ho da poco fatto faremo anche così la descrizione della persona va bene allora io penso che voi già avete scelto la vostra variante e se non l'avete fatto fermate il video insomma sapete come funziona io inizio dalla prima variante ok quella la variante del appunto delle mini tarocchi della new vision quindi andiamo a mischiare queste carte e andiamo a vedere chi vorrebbe parlarti chi vorrebbe parlarti ovviamente prenderemo alcune carte per vedere un po la descrizione di questa persona ma soprattutto poi prenderemo le mie carte della personalità per andare poi nello specifico a vedere se ci danno qualche altro diciamo indizio di chi è questa persona allora intanto prendiamo qua 5 carte per vedere chi è questa persona che vi vuole parlare qui abbiamo un imperatore ragazze un imperatore e un imperatrice qua siete una coppia carmica abbiamo un fante di bastoni abbiamo la regina di spade e abbiamo il tre di pentacoli a fondo mazzo abbiamo qua un nome di bastoni allora chi è questa persona che vi vuole parlare intanto qua il fante di bastoni ci dice proprio che c'è qualcuno che ci vuole parlare che ci sta chiamando che ci sta messaggiando che prove emozioni per noi ovviamente come vedete questa persona è un fante in mezzo a un imperatrice è una regina di spade quindi questa persona queste azioni che sta facendo cioè questa voglia di parlare con voi di comunque approcciarsi a voi lo fa in maniera un po infantile no? in maniera infantile con piccoli passi con piccoli movimenti ma le emozioni sono forti perché lo fa vuole collaborare vedete tre di denari anche se parliamo di un tre di pentacoli comunque un inizio di collaborazione questa persona vedete imperatore imperatrice voi siete proprio la coppia carmica lui è consapevole che voi siete la donna giusta per lui siete fatti l'uno per l'altro quindi qua parliamo anche però di una coppia importante anche a livello come vi posso dire energetico l'imperatore vuole comandare vuole essere vuole predominare l'imperatrice e l'imperatrice va rispettata e comunque voi siete una sua pari e quindi questo lui gli fa piacere gli piacete così come siete perché siete una donna che lo tenete testa vedete in questa diciamo rappresentazione di questo mazzo di tarocchi vedete qua si vedono due bambini con una cicogna quindi qua parliamo della madre di tutto l'imperatrice donna meravigliosa la donna che è comprensiva che è accogliente una donna che sa prendere le decisioni giuste quindi lui è consapevole che voi siete una donna che non si deve lasciare sfuggire assolutamente quindi vorrebbe parlarvi per cosa per dirvi questo più o meno cioè quella descrizione della persona di chi vi vuole parlare è un imperatore che vuole la sua imperatrice per collaborare quindi una persona probabilmente del vostro passato perché qua vediamo che ci sono stati degli ostacoli in questa relazione qualcuno ha alzato le difese e io penso tanto che alzare le difese siete state voi vedete la regina di spade che evidentemente un qualcosa che questa persona probabilmente vi ha fatto non mi è andata bene allora adesso prendiamo un po' queste carte che io ho costruito da poco che ho chiamato le carte della personalità perché perché ho messo su dei pensieri delle caratteristiche fisiche e interiori di una diciamo di una persona no quindi ci sono varie caratteristiche quindi attraverso queste carte vediamo un po' appunto se questa persona voi cercate insomma queste le carte vi fanno capire vi fanno cercare di capire chi è questa persona la descrizione allora andiamo a prendere delle carte vediamo è una persona strategica vedete è questo io non lo escludo perché l'imperatore è una persona strategica è un imperatore è una persona gelosa quindi qua parliamo anche di una persona che è gelosa di voi andiamo a vedere ancora ama mangiare ma soprattutto bere si vedete bene ecco qua lo vedete bene quindi è una persona che ama il buon cibo e soprattutto magari piace pure un po' farsi un bicchierino in più eh è romantico è una persona romantica vedete e beh il fante di bastoni è romantica è anche una persona leale prendiamo l'ultima e sa ascoltare a fondo mazzo abbiamo ama la solitudine quindi anche una persona che ama stare un po' da solo allora questa è la descrizione della persona ok quindi ripeto è una persona strategica è una persona gelosa ama mangiare soprattutto bere è anche un romanticone è leale sa ascoltare e ama la solitudine ecco quindi voi ovviamente poi insomma cercate di capire se questa persona è la persona di cui siamo insomma di cui voi state chiedendo allora quindi abbiamo un po' descritto chi è questa persona che appunto vorrebbe parlarvi adesso andiamo a vedere ma cosa vorrebbe dirvi questa persona quindi che cosa vi vuole dire allora andiamo intanto a vedere i pensieri di questa persona vediamo i pensieri di questa persona quali sono andiamo a vedere i pensieri di questa persona qui abbiamo un fante di denari abbiamo un 6 di spade abbiamo la carta della luna il sole e a fondo mazzo abbiamo una regina di pentacoli allora qui parliamo di una regina di denari una donna che sa dare molto una donna che sa donare sa indipendente bella ricca garbata una donna elegante una donna che piace anche a tanti quindi una donna ammirata quindi quindi lui quali sono i pensieri che ha per voi vi ritiene una donna di tutto rispetto una donna così una donna di casa una donna da poter anche avere o fare insieme una famiglia una casa perché siete una donna la regina di denari è anche detta la donna di casa no perché accogliente perché sa come gestire una casa come sa donare sa dare ed è accogliente che altro pensa qui intanto abbiamo il sole e la luna vedete quindi questa persona chiaro scuro no questa persona è molto anche lunatico un giorno pensa una cosa un giorno ne pensa un'altra qui abbiamo un 6 di spade mi viene da pensare che questa persona sta avvenendo verso di voi in questo caso sicuramente si è allontanato in passato perché qua ci sono delle delle cose nascoste dei segreti che non vi ha detto comunque non si è comportato in maniera equa a quello che meritavate voi e adesso con infante di di denari lui sta pensando senza fare cose molto eclatanti di di venire verso di voi vedete perché la carta del o comunque il vostro pensiero il suo pensiero è un pensiero di affetto di dolcezza di amore di riconoscenza comunque a quello che voi in qualche modo sapete dare come lo fate sentire e quindi lui ha nostalgia ha rimpianto vuole riavvicinarsi a voi quindi questo pensa di riavvicinarsi a voi magari possibilmente con piccoli passi adesso andiamo a vedere ancora andiamo a vedere quindi abbiamo detto i pensieri quello che vorrebbe dirvi quindi questi sono i suoi pensieri cosa vorrebbe dirvi no che vi ammira che siete una donna bellissima parlavamo di segni di terra capricorno vergine d'oro a portarne l'ascendente in ogni caso se non lo siete non significa che non siete voi ma è l'energia della regina di denari che vi ho ampiamente spiegato allora andiamo a vedere adesso i sentimenti quindi vediamo questa persona vorrebbe parlarvi cosa vorrebbe dirvi vediamo cosa vorrebbe dirvi legato ai sentimenti vediamo cosa vorrebbe dirvi legato ai sentimenti qui abbiamo la torre quindi qua i sentimenti sono stati un po' distrutti da azioni precedenti abbiamo un 9 di coppe abbiamo un 4 di denari abbiamo un 2 di denari a fondo mazzo abbiamo l'asso di spade beh questa persona nei sentimenti vorrebbe dirvi che lui adesso ha chiaro è chiaro in sé è chiaro dentro di sé quello che magari ha commesso cioè lui dice beh io ho sbagliato tantissimo con te ho sbagliato tantissimo perché sono stato indeciso sono stato freddo ti ho voltato alle spalle ho creato un motivo per cui tutto precipitasse tutto cadesse e adesso con l'asso di spade lui ha chiaro in sé questo 9 di coppe cioè vuole con voi costruire un qualcosa vedete in questa rappresentazione della new vision il 9 di coppe assume un come dire un valore diverso qui c'è proprio la voglia di una costruzione con voi quindi che cosa vorrebbe dirvi nei sentimenti vorrebbe dirvi ciò che è pentito di quello che ha fatto adesso è chiaro in sé la voglia di avere con voi questo 9 di coppe cioè la costruzione di rimettere nuovamente in fila tutte le coppe dell'amore e probabilmente arrivare anche a 10 quindi andiamo a vedere quindi a questo punto andiamo a come dire a vedere le azioni di questa persona no? vediamo questa persona che azioni vuole fare e poi dopo con le carte di Ellen vedremo poi il destino di questa relazione allora le azioni facciamo un altro pochino di spazio perché sennò poi dopo non riesco a fare entrare nell'inquadratura allora le sue azioni qui abbiamo un abbiamo un fante di spade abbiamo un 6 di denari abbiamo la carta delle stelle e abbiamo il 5 di coppe a fondo mazzo abbiamo qua la papessa ok? quindi ragazze quali sono le sue azioni? beh le sue azioni qua intanto diciamo che come arcano maggiore la stesa viene viene comandata dalla papessa e dalla carta delle stelle quindi è indubbio che questa persona vi ritiene una donna ideale la donna della sua vita la donna che gli ha mandato il cielo le stelle la donna che è capace appunto di dargli quello di cui lui ha bisogno qui c'è stato un momento di allontanamento vedete qua quello si è visto con la torre quindi il 5 di coppe ci parla di un dispiacere dovuto a un qualcosa che è successo vedete le tre coppie sono cadute ma le altre due sono rimaste all'impiedi quindi lui adesso che cosa vuole fare? questa persona intanto vi voglio dire che non ha mai smesso di spiarvi di sorvegliarvi eh? e anche adesso lo fa vi osserva vuole capire le vostre intenzioni quindi magari lo fa in maniera un po' così strategica probabilmente vuole anche capire se voi avete qualcuno se frequentate qualcuno magari vi spia anche nei social questa persona finalmente vi vuole dare quello che vi spetta perché lui è sempre stato un po' tipo il mendicante no? il 6 di denari ci parla di non avere un'equità nel dare avere però adesso lui vuole farlo con il suo ritorno vedete lui viene verso di voi vuole costruire con voi con il nome di coppe e darvi finalmente quello qualche dono qualcosa ve la vuole dare no? qua parliamo sempre un po' di fanti questa persona un po' immatura anche nelle azioni e nelle decisioni però comunque io qua vedo una stella quindi vedo la speranza vedo una anche una realizzazione vedo dei sentimenti sinceri una persona che in questo momento viene in maniera sincera perché perché voi siete la papessa siete una donna importante che è entrata nella sua vita e lui non vuole perdere questa donna andiamo a vedere adesso il destino no? in che senso? vediamo se questa persona aspettate sono al contrario ecco vediamo se questa persona è la la persona del vostro destino insomma se voi siete destinati a stare insieme se appunto avete un destino da dividere quindi vediamo il destino che cosa vi dice in questa stesa eh vediamo un po' che cosa vi dice il destino in questa stesa vediamo che viene fuori qua abbiamo imprevisti mistero occulto qua c'è anche voglia di desiderio di indipendenza abbiamo uno sforzo eccessivo per qualcuno che non apprezza abbiamo comunicazioni desiderate beh questa è una carta molto sincronica con quello che è il titolo no chi vorrebbe parlarti quindi questa persona vuole parlarvi sì che vuole sì che vuole parlarvi abbiamo sentimenti ciclici e suggestione a fondo mazzo abbiamo infelicità mancanza di serenità tristezza e problemi vari allora ragazze qui stiamo chiedendo se questa è la situazione vostra del vostro destino beh qua sicuramente è una situazione destinale perché quando viene fuori sentimenti ciclici suggestione è sempre con la luna il mistero della luna c'è anche qua la luna vedete qua c'è un andare e venire un andare e venire un comunicare e non farlo più e comunque e qua siete siete bloccati in una situazione ciclica quindi vedete questa persona per quanto adesso sta venendo verso di voi e in qualche modo si sta approcciando in maniera veramente diciamo propositiva io devo chiedere riprendo le carte perché voglio fare alcuni approfondimenti perché se no qua devo aprire alcune carte per capirle meglio dicevo qua è come se e poi a lungo andare uno di voi capisse che si fa uno sforzo eccessivo per qualcuno che non apprezza quindi qua ci saranno degli imprevisti dovuti probabilmente al desiderio di indipendenza di questa persona che in qualche modo tra l'altro nasconde dentro di sé questa voglia di rimanere libero di non volersi impegnare ok quindi insomma lui adesso si vuole quello che abbiamo detto vuole tornare vuole richiarire vuole riaprire ma non sappiamo cioè sembrerebbe che non è destinato a voi perché qua ci sarà sempre questa impelicità questa mancanza di serenità tristezza e problemi vari io adesso voglio prendere un approfondimento per queste carte quindi questa carta del mistero perché viene fuori prenderemo una carta amore comprensivo apprezzare le qualità a fondo mazzo abbiamo convivenza e contratto beh questo può significare allora questa carta che prima lui era così prima aveva questa desiderio di indipendenza ma poi siccome voi lo fate sentire bene perché vedete questa carta è bella perché ci dice il bello dell'amore è che non si ama soltanto quello che è l'altra persona cioè le sue qualità e i suoi difetti ma il modo in cui ci fa sentire si ama anche il modo in cui ci migliora come se avesse trovato la strada per tirare fuori dodi che non sapevamo di avere quindi questa persona prima aveva questo desiderio di indipendenza ma dopo dopo avervi conosciuto questa persona gli piace tanto come voi lo fate sentire e quindi qua vedete con la carta di fondo mazzo convivenza e contratto sicuramente cambierai idea però andiamo a vedere ancora vediamo questo sforzo eccessivo per qualcuno che non apprezza vediamo cosa vuole dire prendiamo una carta sacerdote beh che qua sicuramente poi si arriverà perché sacerdote è un po' come il papa no? vedete si ritornerà alle origini di pensione alla famiglia vivere ancora con i genitori beh questa persona ha lui dei dogma molto molto chiusi molto fermi quindi qua magari il suo carattere questa è una persona un po' legata alle sue origini magari è cresciuto in un certo modo vi potrebbe dare qualche problema a livello caratteriale come se questa persona per quando voi facciate sforzi eccessivi è come se poi non vi apprezzasse più di tanto insomma a lungo andare ecco andiamo a vedere la carta dei sentimenti ciclici vabbè la comunicazione la lasciamo stare voglio solo aprire queste due carte che mi sembrano importanti quindi apriamo questa sentimenti ciclici e suggestione che ci parla di futuro di una relazione interesse reali e convivenza sessualità ed erotismo va bene quindi qua sono cose relative al passato vediamo questo vediamo questa carta dell'infelicità fai un rispetto alla tristezza questa carta stiamo aprendo e vediamo infelicità mancanza di serenità e tristezza e problemi vari vediamo perché viene fuori giudicare il partner donna che consiglia rapporto anima madre figlio anima confusa allora questa carta ci potrebbero essere dei problemi se voi giudicate questa persona cioè voi non dovete trattarlo come se fosse vostro figlio nel senso che non gli dovete dire tutto quello che lui deve fare perché questa persona vedete ha l'anima confusa e quindi questo modo di fare lo butterebbe di più nella tristezza nei problemi nell'infelicità perché probabilmente questa persona forse ha qualche trauma del passato ma quello io l'ho visto anche con qualche altra carta che adesso mi sfugge allora ragazze è l'uomo del vostro destino beh diciamo che potrebbe esserlo potrebbe esserlo però voi dovete come dire fare attenzione ad alcune situazioni però intanto prendiamoci il presente poi come si dice quel che sarà sarà non sappiamo mai quello che ci può succedere in un futuro diciamo lontano allora questa era la prima variante ragazze quindi mettetemi un like se vi siete riscontrati se vi è piaciuta io ovviamente vi ringrazio di essere stati con me chi ha scelto la prima variante e do il benvenuto a chi ha scelto la seconda variante quella dei tarocchi universali allora ragazze eccoci qua stiamo mischiando le carte per vedere chi vorrebbe parlarti quindi andiamo a vedere la descrizione di questa persona chi è questa persona che vorrebbe parlarvi allora andiamo a vedere prendiamo qua mettiamo delle carte abbiamo il nove di denari abbiamo il sette di denari abbiamo la carta del quattro di spade abbiamo la carta abbiamo qui il mago e la forza a fondo mazzo abbiamo la torre allora questa persona che vi vorrebbe parlare è una persona che ha chiuso si è allontanata ci sono stati dei problemi qua si è interrotta una relazione adesso però questa persona siccome sente un magnetismo vi ammira tanto vi vede una donna bella e vuole ricominciare con voi avere un dialogo sette di denari quindi questa è la descrizione di chi vi vuole parlare adesso se voi ci avete ovviamente qualcuno nella vostra vita passata che ha fatto questo che vi sto elencando allora questa è la vostra variante vediamo un po' chi è questa persona prendiamo qualche carta della personalità andiamo a vedere se ci dà qualche altro dettaglio per capire chi è questa persona quindi chi è questa persona descrizione della persona che vi vuole parlare è una persona che ama ballare intanto ci viene fuori questo vediamo ancora è una persona che è affettuosa anche questo vediamo ancora è passionale quindi ama ballare è affettuoso è passionale prendiamo qualche altra carta parla poco spero che faccia i fatti però ha un bel sorriso ammassare a casa un casalingo a fondo mazza abbiamo ha un animo sensibile insomma non ci dispiace questa spiegazione quindi questa persona ha un animo sensibile è un passionale affettuoso ama ballare parla poco ha un bel sorriso e ama stare a casa ora se voi in questa descrizione avete percepito qualcuno che conoscete andate avanti se no scegliete l'altra variante allora chi vorrebbe parlarti abbiamo capito chi è vediamo un po' invece cosa vorrebbe dirti no quindi cosa vorrebbe dirti questa persona che vorrebbe parlarti quindi andiamo a vedere prima i pensieri vediamo quali sono i pensieri di questa persona cioè cosa pensa di dirvi questa persona abbiamo la forza nove di denari e vengono fuori le stesse carte incredibile incredibile le stesse carte della appunto descrizione abbiamo il fante di spade quindi il mago centrale quattro di spade nove di spade questa persona vorrebbe dirvi realmente che si sente si sente afflitto si sente afflitto per quello che vi ha fatto nove di spade quattro di spade si è allontanato perché perché riconosce che voi siete una donna che non vi manca nulla piena di virtù bella desiderabile lui vi ha sempre tenuto sotto sempre sott'occhio non vi ha mai mai mollato sempre saputo voi che cosa facevate questa persona con la forza e il mago cosa vorrebbe dirvi di voler in qualche modo di cominciare ad avere un contatto un parlare un qualcosa con voi ok questa persona in qualche modo si sente ancora molto attratta legata perché vedete il nove di denari ci parla di una donna che si desidera tanto che desiderano tanto anche gli altri quindi una donna molto ammirata lui vi vede con questo valore e vorrebbe si sente legato e vi ammira e vi vi piacete tanto insomma quindi vediamo ancora quali sono i sentimenti che ha questa persona per voi questa persona che vi vuole parlare 6 di spade abbiamo la regina di coppe aspettate mettiamo le carte un po' più su così le potete vedere abbiamo un 10 di spade centrale mamma mia abbiamo l'eremita abbiamo il 4 di coppe e a fondo mazzo abbiamo il 10 di denari allora che cosa prova per voi è indubbio che questa persona vi ritiene la sua regina di coppe quindi è innamorato di voi la regina di coppe significa proprio la donna amata però vedete questa persona adesso ha passato un periodo molto brutto 10 di spade che l'ha voluto lui è un periodo voluto da lui i suoi sbagli lui è consapevole si è ritirato con l'eremita ha capito di essersi fatto sfuggire un'occasione non l'ha saputo apprezzare all'epoca e vuole riprescarla adesso in qualche modo con questo suo venire verso di voi per fare cosa per avere con voi un qualcosa di bello un 10 di denari no? si potrebbe parlare di una famiglia di una convivenza di una stabilità dividere qualcosa con voi ecco questi sono i suoi sentimenti quindi lui ha capito di essersi fatto sfuggire un'occasione importante con i suoi sbagli nella riflessione ha avuto la diciamo come dire la consapevolezza di sentire un amore per voi andiamo a vedere adesso le azioni che cosa farà questa persona quali sono le sue azioni andiamo a prendere le nostre carte abbiamo un fante di coppe un sette di spade abbiamo un tre di coppe abbiamo la carta del mondo e il diavolo a fondo mazzo abbiamo il cinque di coppe allora ragazze le azioni di questa persona sono un po' dubbie sono un po' dubbie questa persona comunque conserva un'energia un po' così da libertino da diavolo comunque lui ha un'attrazione molto forte nei vostri confronti questo è poco ma è sicuro le azioni che vuole fare ma questa persona vuole il vostro perdono vedete abbiamo il fante di coppe per essersi comportato come il sette di spade quindi ripeto lui è consapevole di quello che vi ha fatto quindi vorrebbe nuovamente con voi degli incontri una gioia una consolazione vorrebbe riaprire questa passione enorme che ha per voi guardate la carta della forza è il diavolo questo è molto 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 legato a voi ha un legame pazzesco questo è ossessionato da voi è ossessionato quindi lui sa di avervi fatto del male deve chiedervi perdono deve rimediare quindi vorrebbe parlarvi per dirvi ciò per dirvi scusami ho sbagliato scusami sei importante per me scusami ho capito che ti amo scusami voglio fare questo voglio fare un'azione di questo genere qua vedete questa persona ha rimpianti si sente triste afflitto guarda quello che non aveva più e dice con queste due coppe io devo cercare di riprendere la situazione in mano adesso andiamo a vedere un po' il destino nel senso se questa situazione è destinata se voi due siete destinati se insomma c'è un un'evoluzione destinale positiva e lo vediamo con queste carte gli oracoli di Ellen qua c'è una situazione o c'è stata di egoismo una ricerca del benessere ma che se insomma ha portato soltanto a stress a un rapporto di coppia vissuto con gelosia e disperazione questa persona vedete vorrebbe tanto venire da voi ma si trattiene qua c'è una situazione di karma non avevo dubbi con il diavolo quindi dovete ricercare il motivo di ripetersi questi eventi vedete questa persona si è allontanata c'è stata una chiusura un blocco emotivo io adesso voglio un approfondimento su queste carte quindi andiamo un po' ad aprire queste carte per sapere qualcosa in più perché qua ci parla si di un destino di trattenersi ci parla di un amore tossico di una chiusura che fa male vediamo questa carta dell'egoismo vedete questa persona ha molta sensualità molto erotismo verso di voi e quindi vuole ricercare questo benessere andiamo a vedere invece a fondo mazzo abbiamo l'anima confusa quindi è confuso e vuole in qualche modo vedete con la sensualità e l'erotismo vuole ricercare questo benessere perché in questo momento è confuso vediamo questa carta della gelosia stress e preoccupazione la apriamo un attimo qua voi lo giudicate tanto però lui è innamorato e gli piace questo suo vostro modo di fare che lo consigliate come un rapporto da madre e figlio quindi questa persona ha un amore per voi vediamo perché vorrei venire da te ma si trattiene perché comunque lui vuole venire da voi questo è poco ma è sicuro anima confusa è uscita nuovamente questa carta vedete lui ha l'anima confusa ma lui vuole un inizio desidera una famiglia dei figli una coppia ma in ogni caso questa carta significa che vuole venire verso di voi vediamo questa carta del karma ricercare i motivi di ripetersi degli eventi come viene fuori questa carta apriamo questa carta progetta e agisci a fondo mazzo abbiamo conoscenze a mezzo social quindi qua sicuramente c'è stato qualcosa ripetersi degli eventi sarà che questa persona forse ha il vizietto di stare sempre sui social e quindi qua questa cosa a voi proprio non va vediamo la carta dell'allontanamento della chiusura del blocco emotivo se ci dice che è per sempre o se c'è una speranza progetti contrastanti a fondo mazzo abbiamo amore comprensivo apprezzare la qualità allora diciamo che sicuramente i progetti vostri sono stati contrastanti hanno provocato una chiusura però qua vedo che comunque c'è la voglia di questo amore di comprendere questo amore di apprezzare l'uno dell'altro le vostre qualità perché comunque delle qualità qua ci sono quindi ragazze questo è quello che vorrebbe dirvi quindi questa persona che vi vorrebbe parlare è una persona del vostro passato quello che vi vorrebbe dire è quello che abbiamo detto sinora quindi io ovviamente vi aspetto tutti nei commenti anche in questa variante fatemi sapere se vi siete riscontrati se vi siete rivisti riconosciuti se vi è piaciuto il video mettetemi un like se non siete iscritti e vi va ad iscrivervi iscrivetevi al canale queste erano le mie due varianti ragazze io vi ringrazio di essere stati con me anche quest'oggi vi do appuntamento ai miei prossimi interattivi vi mando un bacione ciao a tutti a tutti